Grazie ancora a quel famoso decreto centinaio del 2020, la Regione stanzia 20 milioni che vengono ancora presi da quella famosa legge per far scorrere le graduatorie per il riempianto olivicolo nel Salento. Sarà quindi possibile, grazie al decreto centinaio, il trasferimento di 20 milioni di euro destinati ai riempianti di olivi colpiti dal batterio dell'Axilella, un intervento auspicato e sollecitato da tutti i parlamentari e consiglieri regionali della Lega. Altri 2 mila impianti finanziati, questo servirà non solo agli agricoltori che potranno finalmente riempiantare nei propri terreni ma anche come ristoro al danno ambientale dovuto all'Axilella nel Salento. Ancora una volta grazie al decreto centinaio e ai 20 milioni presi appunto da quella legge che il Salento beneficerà dei frutti per l'agricoltura. Speriamo nei prossimi mesi che possano esserci degli altri interventi per far sì che le graduatorie scorrano ancora e magari cercare di portarle tutte a compimento. Un risultato straordinario che come Lega rivendichiamo.